Il tema che stanno trattando i ragazzi è l'amicizia, quindi stanno facendo dei segnali e dietro, visto che quest'anno tratteremo l'amicizia, dei pensierini sull'amicizia. Non voglio mandare che noi facciamo scuola, ma dopo musica la più bella, la più bella, la più bella, la più bella è l'Intervalo Tri! Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla manifestazione Nessun Parli. La giornata è fortemente voluta dal Ministero, dal MIUR, per elogiare, per mettere in risalto per una giornata tutte le arti. Una giornata particolare dedicata alla musica, alla danza, alla scrittura, a tutte le arti grafiche. Sì, non ci viene fatto! Ci dobbiamo svegliare? Ancora? Ancora? No! Ah! Chi c'era? Pensato a più! Vi ricordate? Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Convinto? Sì, sì, sì! E' il nostro amico che non c'erano più in giro! Sì, sì, sì! 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 Sì, 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 sì! Stanno riproducendo la loro immagine sulla tela. Un po' di pop art personale. Poi vennero per i pregi e io non dissi nulla, perché non ero prego. Poi vennero per i pregi e io non c'erano più in giro. Poi vennero per i pepe. Io sono Jean, il guerriero più forte del villaggio. Sono stata incaricata dallo sciamano di liberare le stelle dal buco nero. La prima volta è un'occhiaio di più, ma non sono un'occhiaio di più, ma non sono un'occhiaio di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la mia aria preferita. È Maria Callas. È l'Andrea Scenier. Umberto Giordano. Dice il luogo che fu la mia culla sta bruciando. Così fui sola. Questa volta lasciate che sia felice. Non è successo nulla a nessuno. Non solo da nessuna parte. Succede solo che è solo felice. Perché il messaggio, ragazzi, deve nascere da dentro. Deve essere qualcosa di cui abbiamo compreso l'importanza e che dobbiamo far maturare nella nostra coscienza. La mia città è la mia città è la mia città. 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 La mia città è la mia città.